questo cos'era un crepatoio un cremoso gli oghi ma che di grilli ma che di grilli ci siamo a fare su un'aria mi salta una dosso l'opertura si può merce migraia con quello del corpo Qua c'è l'uscita E' pazzesco Non capisco da dove arriva Così ce l'ha portati E siamo usciti dall'altra parte